Un quesito sull'intelligenza emotiva è quello che possiamo immediatamente porci se pensiamo di una situazione nella quale abbiamo assistito almeno una volta nella vita, tutti, trovandoci accanto ad un amico in auto, che va su tutte le furie nel momento in cui un altro automobilista gli taglia pericolosamente la strada. Beh, distinto, tutti siamo portati ad inveire contro l'altro automobilista insieme con il nostro amico che ci siede accanto e che è la guida dell'auto. Ma questo comportamento, il nostro, in quel momento è quello emotivamente più intelligente? Allora vediamo le possibili risposte per un quesito come quello proposto. La prima risposta è Gli dite di non pensarci più, in fondo non ci sono danni, non è stata una cosa grave. O ancora Mettete su uno dei suoi brani preferiti nel lettore dell'auto. Vi associate a lui nell'insultare l'automobilista, comportamento abitualmente assunto da molti. Oppure risposta 4, li raccontate di quella volta in cui è successa una cosa simile anche a voi e di come vi siete arrabbiati finché non vi siete resi conto che l'altro guidatore stava trasportando una persona in ospedale. Per dare la vostra risposta vi consiglio di mettere in stop questo video su questa slide affinché possiate rileggere opportunamente le risposte. Una volta data la vostra risposta riavviate il video e scoprirete quella che nel numero di luglio agosto 2006 ha fornito la rivista Mind, oggi Mind all'epoca mente e cervello, ha dato in relazione al quesito proposto. Secondo infatti gli esperti di intelligenza emotiva, la risposta emotivamente più intelligente è la numero 4, ovvero gli raccontate di quella volta in cui anche a voi è successa la stessa cosa ma poi vi siete resi conto che l'automobilista era di fretta perché stava trasportando una persona in ospedale e di conseguenza avete cambiato atteggiamento. E in effetti la risposta emotivamente più intelligente è la numero 4 perché riguarda la capacità di evitare o di controllare la rabbia sia in se stessi che negli altri come indicatore chiave dell'intelligenza emotiva. Infatti ogni tentativo strutturato per distrarre in maniera costruttiva gli altri dalle emozioni negative appare come un indicatore fondamentale del possesso di elevati livelli di intelligenza interpersonale che è uno degli aspetti fondamentali dell'intelligenza emotiva unitamente all'intelligenza intrapersonale. Essere d'aiuto agli altri in momenti critici infatti comporta la nostra capacità di diventare quasi delle guide emotive per regolare, per modulare anche il comportamento negli altri. Ecco che in quei momenti dunque diventa fondamentale per chi voglia aiutare gli altri a contenere le emozioni distruttive riuscire a simpatizzare per trasferire su un altro piano emotivo delle emozioni che appunto stanno andando verso una pericolosa deriva distruttiva come appunto accade per chi prova emozioni di rabbia. Grazie a tutti.